Dissolvere i coaguli con rimedi naturali. Esistono ingredienti naturali i cui composti offrono una serie di benefici per la salute cardiovascolare. Fra questi, aiutano a dissolvere i coaguli di sangue. Nell'articolo di oggi vi presentiamo 6 ingredienti naturali che possono aiutare a dissolvere i coaguli di sangue. Sono ottimi per ridurre i pericolosi addensamenti di piastrine o globuli rossi. Bisogna ricordare che i coaguli sono piccole masse che si formano quando si produce una lesione o una rottura di un vaso sanguigno. La coagulazione è un normale processo dell'organismo che impedisce la perdita eccessiva di sangue in caso di emorragia. Tuttavia, la comparsa di coaguli può essere molto pericolosa quando avviene in vasi sani o quando restano in circolo dopo aver compiuto la loro funzione. Possono provocare interruzioni o blocchi del flusso sanguigno. In questo modo aumenta il rischio di soffrire di malattie o di gravi danni a tessuti e organi. Scopriamo, quindi, alcuni utili rimedi per dissolvere i coaguli di sangue. Rimedi naturali per dissolvere i coaguli 1. Zenzero Lo zenzero contiene vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a fluidificare il sangue, evitando la formazione di coaguli. Questa radice è molto conosciuta per le sue proprietà fluidificanti. Inoltre, i suoi composti aiutano a mantenere le arterie elastiche. Ingredienti 1 cucchiaino di zenzero grattugiato, 5 g, 1 tazza di acqua, 100 ml, preparazione Versate lo zenzero fresco grattugiato in una tazza d'acqua bollente. Coprite l'infuso e lasciatelo riposare 10 minuti. Bevete 1 tazza al giorno, fino a miglioramento. Non si consiglia di bere più di 3 tazze al giorno. 2. Chiodi di garofano I chiodi di garofano contengono grandi quantità di polifenoli concentrati, sostanze anticoagulanti che aiutano a mantenere un'ottima circolazione sanguigna. Questi antiossidanti, insieme alle vitamine e ai minerali, evitano l'accumulo di lipidi e tossine nel sangue, che potrebbero produrre un'ostruzione. Ingredienti 1 barra 2 cucchiaino di chiodi di garofano, 2.5 g, 1 tazza d'acqua, 100 ml, preparazione Aggiungete i chiodi di garofano in una tazza d'acqua calda e coprite l'infuso. Aspettate che si raffreddi 10 minuti e filtrate. Bevete massimo 2 tazze al giorno. 3. Ginkgo biloba Le foglie di ginkgo biloba sono ricche di antiossidanti e hanno proprietà antinfiammatorie. Pertanto, aiutano a ridurre le difficoltà del sistema circolatorio, tra cui la formazione di coaguli. I suoi estratti naturali migliorano il flusso sanguigno, aiutano a eliminare le tossine e prevengono emboli e trombi. Ingredienti 1 cucchiaio di foglie di ginkgo biloba, 10 g, 1 tazza d'acqua, 100 ml, Preparazione Aggiungete le foglie di ginkgo a una tazza di acqua bollente. Coprite e lasciate riposare 10 minuti. Filtrate l'infuso e bevete una tazza al giorno, per 3 settimane. 4. Amamelide Il consumo regolare di infuso di amamelide aiuta a ristabilire il flusso sanguigno e a dissolvere i coaguli più piccoli. Questa pianta agisce come tonico per le vene e, fra gli altri effetti, diminuisce l'infiammazione. Ingredienti 1 cucchiaio di amamelide, 10 g, 1 tazza d'acqua, 100 ml, Preparazione Aggiungete un cucchiaio di amamelide in una tazza d'acqua e riscaldate a fuoco basso per 5 minuti. Quando la tisana è pronta, lasciatela riposare a temperatura ambiente e filtratela. Bevete una tazza al giorno per almeno 2 settimane. 5. Carciofo Fra le molte proprietà medicinali del carciofo, previene la formazione di coaguli di sangue. Le sue proprietà aiutano a ristabilire la circolazione nelle zone problematiche e a depurare il sangue dalle tossine e dai grassi. Ingredienti 1 carciofo, 50 g, 3 tazze d'acqua, 300 ml, Preparazione Pulite un carciofo, tagliatelo a pezzi e mettetelo a bollire in una pentola d'acqua. Giunto a ebollizione, abbassate il fuoco e lasciate bollire altri 3-5 minuti. Coprite la tisana e lasciatela riposare a temperatura ambiente. Bevete, al massimo, 2 tazze al giorno per 3 settimane. 6. Peperoncino di Cayenna Il peperoncino di Cayenna contiene un fitochimico naturale conosciuto come piperina, che possiede proprietà anticoagulanti. Questa sostanza regola il flusso sanguigno e aiuta a dissolvere i coaguli, evitando l'occlusione dei vasi sanguigni. Ingredienti 1 barra 2 cucchiaino di peperoncino di Cayenna, 2,5 g, 1 tazza d'acqua, 100 ml, Preparazione Aggiungete il peperoncino all'acqua calda. Lasciate riposare finché non si intiepidisce. Bevete 1 tazza al giorno per 3 settimane. Attenzione! Prima di consumare un qualsiasi di questi rimedi naturale, è importante consultare il medico di fiducia per evitare reazioni indesiderate. Questa precauzione è particolarmente importante se si segue una cura farmacologica di anticoagulanti. Come abbiamo già detto in altre occasioni, il medico è il professionista che saprà orientarvi meglio riguardo i rimedi da assumere per prendervi cura della vostra salute. Qualora il medico approvi uno di questi rimedi, ricordate di consumare solo quello scelto e non mescolare. Provatene una e se osservate qualche effetto indesiderato, sospendete immediatamente il consumo.